Gli artigiani, gli agricoltori che ho incontrato questa mattina, non dimentichiamoci che poi dietro a una tromba d'aria ci sono attività produttive, c'è di tutto. Vorrei ricordare che noi in questa fase stiamo facendo il censimento. È una fase delicatissima, io infatti ringrazio i sindaci perché loro saranno gli artefici di questo censimento. A cosa mi serve il censimento? A cominciare a chiedere una cifra. Il Presidente del Consiglio viene in Africa per due o tre giorni. Al ritorno io sarò lì a chiedere ovviamente che ci sia il ristoro. E detto questo abbiamo già attivato un conto corrente perché molti cittadini, onestamente mai accaduto prima, in questa maniera perché si rendono conto, ci chiedono di poter donare risorse, molti ci chiedono di poter venire a dare una mano. Io dico sempre contattati i comuni. Abbiamo un IBAN e quindi i versamenti li garantisce la Regione sulla gestione e vanno direttamente alle famiglie bisognose. Quindi un appello di fare questi versamenti. Noi abbiamo stanziato 3 milioni cash e 3 milioni lunedì li porto in variazione di bilancio. C'è il discorso di insediamento del Presidente, per me è tromba d'aria il discorso di insediamento, ovvio no? Chiedo al Consiglio di fare in maniera irrituale, senza rispettare le regole del Commissione e tutte queste robe qua, di far stata libera perché posso portare a casa i 3 milioni.